Aspetto. Cane da ferma tedesco a pelo corto è la forma più antica e basilare del cane da ferma tedesco, questo spiega ovviamente il suo vantaggio nel lavoro sul campo, che richiede, prima di tutto, istinto sottile, disponibilità alla ricerca, interesse per il lavoro. Con un corpo corretto e armonioso, lo stile di lavoro nel campo è molto bello. Inoltre, il puntatore a pelo corto funziona molto bene sugli uccelli acquatici e sulla scia di sangue della bestia. È molto fedele al suo proprietario, è ben addestrato, chiama ed è comodo da tenere in un appartamento. Forma generale. Il cane da ferma tedesco a pelo corto dà l'impressione di un cane nobile e proporzionalmente costruito, le cui forme forniscono resistenza, agilità e forza. Non dovrebbe essere né troppo piccola né troppo alta. I cani troppo grandi sono generalmente alti, e raramente resistenti e quindi inadatti al lavoro a lungo termine, al contrario, con un'altezza media, come un cavallo da caccia, dovrebbe coprire molta area con il dorso corto. L'altezza desiderata algarrese nei maschi va da 62 a 64 centimetri, nelle femmine è leggermente inferiore. I cani pesanti e crudi dovrebbero essere scartati. A prima vista, il cane dovrebbe dare l'impressione di essere capriccioso, energico, ma non nervoso, ma equilibrato, con movimenti leggeri, dolci e aggraziati. Il lavoro di allevamento con questa razza persegue l'obiettivo di rafforzare la forza e l'aridità della costituzione, migliorando le forme esterne e le linee del corpo più belle e levigate, ottenendo una testa più asciutta e bella. Scapole lunghe, torace profondo, schiena forte e groppa muscolosa indicano rapidità di movimento, mentre la struttura ossea, la corretta larghezza del torace, e la muscolatura ben sviluppata garantiscono instancabilità e resistenza nel movimento continuo. Cane da ferma tedesco a pelo corto è senza dubbio la razza di cane da ferma a pelo corto più diffusa nel continente europeo. Volendo stabilirne l'origine, bisognerebbe tornare indietro di diversi secoli, quando in diversi paesi, selezionando dei segugi, che mostravano una tendenza alla postura, e come risultato del loro ulteriore allevamento, furono create diverse razze di poliziotti a pelo corto. In Germania a quel tempo era conosciuta la razza Old German Pointing Dog. Incrociandolo con l'Old Spanish Pointer, e alcune razze simili a cani, è stato allevato un cane forte con una testa pesante, che ha fatto in modo affidabile stensi uccelli, e altri piccoli selvaggina e ha svolto in modo affidabile un lavoro di tracciamento. La sua ricerca era lenta, il suo istinto era più debole, quindi non poteva competere con i poliziotti inglesi, che negli anni 40 del secolo scorso iniziarono ad essere importati in massa in Germania. Per l'ulteriore esistenza del poliziotto tedesco dai capelli corti, doveva essere migliorato nell'interesse di aumentando il suo temperamento, l'adilità e la sottigliezza dell'istinto. Per questi scopi, un pointer inglese è stato utilizzato in diversi luoghi. Di conseguenza, alla fine del secolo scorso e all'inizio del nostro secolo, è stato gradualmente allevato un cane di razza, che è stato già molto più vicino al tipo moderno del cane da ferma tedesco a pelo corto. Il lavoro per migliorare la razza, ovviamente, è continuato ed è stato mirato non solo a migliorare l'aspetto esteriore, ma soprattutto sulle qualità di campo di questo cane. Cane da ferma tedesco a pelo corto, rispetto allo standard originale del 1879, ha perso peso, ha migliorato la sua forma esterna, ha aumentato la velocità di ricerca, ha acquisito un fiuto più fine ed un modo elegante di stare in piedi, senza perdere la sua disponibilità a lavorare sul trail, per la movimentazione, e per il lavoro in acqua. Queste proprietà estremamente preziose per la pratica della caccia, insieme a grande intelligenza ed utilità, sono state ottenute dal cane da ferma tedesco a pelo corto, che combina le proprietà di un poliziotto, prendendo una posizione, una porter, un tracciatore di tracce di sangue e un segugio, quindi, un cane universale. Punti salienti e fatti interessanti. Il pointer tedesco a pelo corto è stato incluso per la prima volta nel libro genealogico dell'AKC nel marzo 1930. I puntatori tedeschi a pelo corto sono cacciatori versatili e cani da caccia versatili. I tedeschi tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo allevarono selettivamente questi cani per l'obbedienza, e poco dopo per migliorare l'atteggiamento e l'olfatto, al fine di ottenere la quintessenza di un cane da campo. Il primo spettacolo di specialità tedesco a pelo corto con licenza AKC si tenne a Chicago il 29 marzo 1941 all'International Kennel Club Show. La principale fonte del pool genetico per il pointer tedesco a pelo corto sembra essere stato il cane da caccia tedesco. La prima prova sul campo della razza, autorizzata dall'AKC, fu condotta dal club genitore dei German Shorthy Red Pointer Sadanoca, Minnesota, il 21 maggio 1944. Storia della razza. La storia del pointer tedesco a pelo corto inizia con i cani, che venivano utilizzati per la caccia agli uccelli con le reti, soprattutto nei paesi mediterranei, oltre che per la falconeria. Attraverso la Francia, la Spagna e le Fiandre, i puntatori arrivarono alle proprietà tedesche. La caratteristica distintiva più importante di questi cani era la loro capacità di lavorare in posizione. Dopo la comparsa della prima pistola a doppia canna nel 1750, c'era bisogno di un puntatore per cacciare da sotto un cane. Questo fu l'inizio della transizione da un puro pointer a un versatile cane da caccia. Dal 1897, il libro genealogico del Cursaar tedesco è diventato una base seria per la formazione e lo sviluppo della razza. Il principe Albert Solz Braunfels ha compilato le caratteristiche della razza, le regole di giudizio, e infine le semplici regole per i tessui cani da caccia. Oggi il cane da ferma tedesco a pelo corto passa ancora attraverso il filtro dell'allevamento, del miglioramento della razza e dei test. Lo standard prevede il fisico del Cursaar come un cane da caccia versatile, che gli consente di soddisfare tutte le esigenze di caccia, anche in età. Tratti caratteriali distintivi. Cursaar è un cane da caccia, o meglio un poliziotto, cioè prende posizione contro uccelli e piccoli animali. Il Cursaar è versatile, funziona su tutti i tipi di selvaggina. Meglio di tutti, il pointer a pelo corto si mostra durante la caccia sul campo. Cursaar nuota bene, si comporta bene, può essere usato come un segugio. Ha anche un istinto protettivo completamente sviluppato. In Europa, il pointer a pelo corto è una delle razze da caccia più popolari e utilizzate. Grazie alla sua lana densa e dura, non ha paura degli insetti. Alla ricerca, durante la guida, tollera facilmente il gelo fino a meno 20 gradi centigradi. Ma può prendere il raffreddore se trasportato su una slitta, o su un corpo aperto, quindi dopo la caccia, si consiglia di coprire il cane con un mantello o una coperta. Due puntatori a pelo corto possono facilmente sopportare noti gelide fino a meno 7 gradi centigradi in un'auto. Resiste al lavoro in acqua fredda, quasi ghiacciata. Ma dopo la caccia, il cane deve essere pulito bene, e coperto con un mantello. Quando vai a caccia di uccelli acquatici o beccacce in primavera, dovresti portare con te una lettiera. Manutenzione e cura. Senza pretese nella vita di tutti i giorni. Questa razza può essere facilmente tenuta in un appartamento. Curioso. Carattere bonario e socievole, ama giocare con i bambini. Per la manutenzione della voliera, è necessaria una cabina riscaldata. Di solito, i capelli corti a pelo corto sono ancorati con la coda, da metà a due terzi della lunghezza, che è associata ad un'alta probabilità di lesioni durante la caccia nei supporti. In media, i pointer a pelo corto vivono 12 al 14 anni. Dai da mangiare al tuo cane cibo di qualità appropriato per l'età, e il livello di attività del cane. Un cucciolo di età inferiore a sei mesi dovrebbe essere nutrito più di due volte al giorno, quando il cane raggiunge l'età adulta, è sufficiente nutrirsi mattina e sera. Poiché questa razza è soggetta a gonfiore, non dovrebbero essere nutriti immediatamente dopo la corsa o altri esercizi intensi, né dovrebbero essere autorizzati a correre o esercitarsi per almeno un'ora dopo aver mangiato e bevuto. Idealmente, la loro routine quotidiana dovrebbe includere un'attività fisica sufficiente due volte al giorno. Possono essere attive passeggiate di mezz'ora al mattino e alla sera o fare jogging e giocare in un'area recintata in modo sicuro. Sono intelligenti e atletici ed eccellono in una vasta gamma di attività canine che allenano la mente e il corpo, dalla competizione sul campo all'agilità, all'obbedienza e alle immersioni. L'addestramento precoce è molto importante per il pointer tedesco a pelo corto. La socializzazione dei cuccioli e le lezioni di addestramento sono fondamentali. Questa è una razza intelligente che impara rapidamente con un allenamento costante. La razza può essere estremamente impegnativa da sei mesi a tre anni di età. Il pointer tedesco a pelo corto ha un livello di energia molto alto, e un forte istinto di preda, e ha bisogno di un proprietario attivo per incanalare l'entusiasmo e l'intensità del cane in modo positivo. Salute. Sebbene i puntatori tedeschi a pelo corto siano generalmente sani, la razza può essere soggetta ad alcuni problemi di salute. Questi includono displasia dell'anca, malattie degli occhi come l'atrofia progressiva della retina, e alcune condizioni cardiache. L'allevatore responsabile controlla la presenza di malattie nel suo allevamento. Prezzo e come acquistare correttamente. Quando acquisti un puntatore a pelo corto, devi prima di tutto tener conto che si tratta di un cane da caccia, e non solo il suo aspetto è importante, ma anche la salute, la mobilità, il comportamento, l'atteggiamento nei confronti di oggetti e persone sconosciuti. È necessario conoscere i pedigree di madre e padre, indicatori di prove sul campo, partecipazione a mostre. Un dato importante. Decidi in anticipo di chi hai bisogno. Una donna o un uomo. La cagna è più facile da addestrare, avrai l'opportunità di allevarla e ottenere cuccioli. Il maschio impara più difficile, ma lavora bene. Sono più difficili da addestrare in quanto tendono a mantenere posizioni di comando, il che è inaccettabile. È altrettanto importante ottenere maggiori informazioni sull'allevamento o sull'allevatore, per avere un feedback. Gli allevatori devono avere certificati e licenze per operare, i cani devono essere tenuti in buone condizioni. Insieme al cucciolo, è necessario ottenere i documenti di vaccinazione, pedigree dell'allevatore. I curzar sono una razza abbastanza popolare, ma in Russia non si sono diffusi, e quindi i prezzi per i buoni cani sono alti. In Europa si possono acquistare a circa 800 al 1400 euro. Questo è un prezzo accettabile per i paesi europei, dove il puntatore a pelo corto è valutato più del puntatore. Nei grandi vivai, gli animali con un'eccellente pedigree costano dai 300 ai 500 dollari USA. I piccoli allevatori vendono un cane decente per 100 dollari 200. Linea di fondo. Il cane da ferma tedesco a pelo corto, o cane da ferma tedesco a pelo corto, è una razza di cani da ferma allevati in Germania. La base per la creazione della razza, erano i vecchi poliziotti tedeschi a pelo corto. Un cane molto attivo. I parenti più stretti del pointer a pelo corto sono Dratahar e Langar.